Messaggio di Meggiugorie del 2 dicembre 2013 Cari figli, con materno amore, materna pazienza, guardo il vostro continuo vagare e il vostro smarrimento. Per questo sono con voi. Desidero anzitutto aiutarvi a trovare e conoscere voi stessi, affinché poi possiate capire e riconoscere tutto ciò che non vi permette di conoscere sinceramente e con tutto il cuore l'amore del Padre Celeste. Figli miei, il Padre si conosce per mezzo della croce, perciò non rifiutate la croce. Con il mio aiuto cercate di comprenderla ed accoglierla. Quando siete in grado di accettare la croce, capirete anche l'amore del Padre Celeste. Camminerete con mio figlio e con me. Vi distinguerete da quelli che non hanno conosciuto l'amore del Padre Celeste, da quelli che non lo ascoltano ma non lo comprendono. Non camminano con lui, non l'hanno conosciuto. Io desidero che voi conosciate la verità di mio figlio e siate miei apostoli, che come figli di Dio vi eleviate al di sopra del pensiero umano e sempre in tutto cercate nuovamente il pensiero di Dio. Figli miei, pregate e digiunate per comprendere tutto quello che vi chiedo. Pregate per i vostri pastori e bramate di conoscere in comunione con loro l'amore del Padre Celeste. Vi ringrazio.